Sono Padre Guglielmo, Cappuccino, figlio spirituale di Padre Pio. La sua immagine campeggia a fianco a me perché io voglio lanciare a tutto l'Abruzzo un messaggio, ora che il cuore di Padre Pio dovrà arrivare nella nostra città di Pescara. A migliaia e migliaia, dall'Abruzzo, da tutte le città e dai paesi, io ho fondato i gruppi di preghiere e da lì si va e si è sempre andati a San Giovanni Rotondo per stare vicino a Padre Pio, ricevere il suo sguardo, la sua benedizione e magari la sua alcarezza. Ora che stiamo per ricevere il dono grande del suo cuore, noi esultiamo. E non soltanto io, o soltanto i pescaresi, ma tutti gli abruzzesi. Anzi, ricordo a questo proposito che una mattina stavamo insieme soltanto io e lui e lui, un po' sorridente, ma con voce ferma, mi ha detto Abruzzese, vogliamoci bene. Ecco, questo Abruzzese mi obbliga, mi fa sentire proprio il dovere di annunciare a tutti voi questo grande momento e questo grande regalo della provvidenza a noi figli della terra d'Abruzzo. Continuiamo a volere bene a Padre Pio e se in questi giorni è possibile, stringiamoci a lui con la preghiera, con la gioia, con la consolazione che è venuto qui perché ci vuole bene.